Oh! Oh! Grazie all'altra volta! Siamo uno per uno eh! Due, due, due! Non si, non si, non si! Faceci! Come andiamo salito, non si! No, 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 no! Non si, non si, non si, non si! Oh, ma non la, da capo il sovaltiere! Excuse me, come andiamo a getter? Come andiamo! C'è stato! Andiamo! Andiamo! Andiamo a partire l'amministra. Non si, no, no! Mettiamo a partire l'amministra! You, andiamo a partire l'amministra! Inizia a partire l'amministra raffinata! Sì, a partire l'amministra, dentro e indietro! Andiamo! Andiamo a partire l'amministra! No, scoprini! Diego! 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 Diego, rimani dietro! Diego! 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 Ragazzi, lo hai portato qui a l'uomo, Fabio! Fanno più il movimento! Io sono stato, perché io sono stato il proprio step! Dai, 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 dai ragazzi! Fermamoli eh! Bravolo, bravolo! Dai, grande massimo! Dai, dai, dai! Dai, dai, dai! Dai, dai, dai! Dai, il portiere! Dai, 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 dai! Vai, sali, sali! Bravo, lui! Bravo, lui! Bravo, Donio! Vai, prova il tiro pure! Così! Oh! Oh, bravo! Sì, sì! Sì, lo taglio! No! Ragazzi, stava solo in difesa, cazzo! Eh! Dai, dai, dai! Eh! Oh! Eh! 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 eh!